C'è un tempo da dover colmare da adesso a quando inizieranno i lavori. Allora su questo ho avuto un colloquio non ufficiale, informale, con Sua Eccellenza il Prefetto e abbiamo concordato una linea di azione che consta sostanzialmente di tre iniziative. Una triplice azione per combattere il degrado e la criminalità ai giardini del Porcinai, angolo della città dove l'escalation di violenza ha visto salire l'allarme tra residenti e commercianti in attesa dei lavori di riqualificazione che prenderanno avvio a giugno. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino Alessandro Ghinelli in consiglio comunale. La prima è quella di illuminare con una fonte o più fonti, probabilmente una fonte, c'è un po' da vedere ora nel dettaglio come farlo, tutta la zona dei giardini porcinai che vanno da Piazza della Repubblica fino all'inizio di Corso Italia. Quindi o un faro o due fari incrociati che illuminano la zona dei porcinai dove normalmente avvengono gli episodi di violenza. Il secondo, ed è stata una richiesta espressa del signor Prefetto, è quello di potare più radicalmente gli alberi che creano zone di ombra sulle quali si nascondono le persone e avvengono spesso gli atti di violenza. Il terzo, che è una vera novità e che è stato proposto da chi vi sta parlando, è quello di istituire un servizio di vigilanza continua affidato a un sistema di sorveglianza privata. Siccome noi con le nostre forze non ce la facciamo a tenere fissi degli agenti in una zona della città e basta, ma siamo costretti a farli circolare per coprire tutto il territorio comunale in maniera più o meno ricorsiva e altrettanto non può fare la Polizia di Stato e i Carabinieri, e allora il Prefetto mi ha dato mandato per poter proporre un contratto specifico che metteremo in piedi nel più breve tempo possibile per mettere della Polizia privata a controllare le zone più calde della città. Tra queste si comincia proprio dai giardini porcinai. Quindi un controllo continuo affidato a terzi.